Con nota protocollata il vice presidente della giunta regionale Emanuele Imprudente e Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica hanno comunicato alle amministrazioni interessate il parere contrario della conferenza regionale della pesca e dell'acqua cultura alla realizzazione di una spiaggia per ripascimento e rilascio controllato in prossimità dell'arenile di Alba Adriatica. Dunque non una buona notizia per il comune albense che ora vede con ogni probità naufragare i tanto attesi interventi sulla spiaggia fortemente rosa dalle mareggiate visto i continui rinvii e l'avvicinarsi del club della stagione balneare. Un intoppo che sembra anche politico visto la presa di posizione dei comuni a guida centrodestra di Giuliano Vettortoreto, unici senza problemi di erosione della costa teramana che con una nota hanno espresso soddisfazione per il parere contrario pronunciato dal Dipartimento della Pesca. Le tre opere anti-erosione tanto attese per la costa nord di Alba Adriatica promesse dal sottosegretario della giunta regionale Umberto D'Annuntis di Fratelli Italia si sono scontrati con gli ostacoli piazzati da due settori della stessa regione, quello della pesca guidato dal vicepresidente imprudente della Lega e quello dei rifiuti di cui ha la delega l'assessore Nicola Campitelli, anche lui del Carroccio. Dunque manca l'autorizzazione del Dipartimento regionale dei rifiuti sia per la spiaggia di alimentazione e la grande opera da 2 milioni di euro per 100.000 metri cubi di sabbia e due pennelli perpendicolari che ha subito il rinvio della gara d'appalto, sia per l'opera alternativa del mini ripascimento comunale da 5.000 metri cubi di materiale da cava terrestre finanziato dalla stessa regione. Mentre è già noto da giorni che il Dipartimento della Pesca ha espresso parere contrario in merito alle zone scelte per il prelievo di sabbia per realizzare la spiaggia di alimentazione, questo a causa della grande presenza di molluschi sposando la linea dei vongolari del cogevo e di altre associazioni di categoria forti dei rilievi dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo.